Non sono passate inosservate al comune di Pesaro le dichiarazioni di Nardo Filippetti, presidente di Lindberg Hotel & Resort, che in occasione del Via Ala Partnership della catena alberghiera di qualità con l'unione dei tour operator di Inside Market Live, ha stigmatizzato il tallone d'Achille di una Pesaro che a dispetto dei proclami 2024 è ancora molto indietro sul valorizzarsi come destinazione turistica, soprattutto sul piano internazionale. Oggi attraverso una nota ha replicato a Filippetti il vice sindaco Daniele Vimini additando come un errore anacquare la comunicazione concentrandosi su cosa mancherebbe e non sui grandi punti di forza della città, del sistema dell'incoming e del lavoro degli operatori turistici, alberghieri e della ristorazione. Per Vimini, se è vero che il mare è un punto di forza da valorizzare, è altrettanto vero che in estate è già difficile trovare posto nelle strutture, così come di ombrelloni, quindi si può parlare al massimo di alzare la qualità dell'offerta, cosa a cui servirà Pesaro 2024 e a cui deve corrispondere uno sforzo degli operatori dell'accoglienza. Per Vimini è altrettanto sbagliato disprezzare il turismo sportivo, che non sarà il più alto spendente in termini di camera d'albergo, ma che porta ricchezza in generale alla città, oltre a contribuirne alla conoscenza e all'immagine. Un turismo sul quale il Comune partecipa anche direttamente, esentando gli under 18 ad esempio della tassa di soggiorno, un turismo che spesso supera i numeri stessi dell'accoglienza della città. Serve più considerazione anche in virtù dell'anno 2024 dalle strategie turistiche della Regione Marche, sia in termine di inclusione, sia in termine di condivisione delle scelte. Vimini ha raccolto con piacere lo spunto emerso da Filippetti sul web marketing, argomento sul quale si può e si deve fare meglio e per questo formulerà allo stesso Filippetti una proposta di collaborazione diretta in un settore così strategico.